I finanziari del Comando Provinciale Salerno hanno effettuato quattro controlli nei confronti di imprese del capoluogo di provincia operanti nel settore della ristorazione e del commercio al dettaglio di abbigliamento. I militari hanno riscontrato che se 22 lavoratori controllati, 12 sono risultati completamente in nero, intenti a prestare la propria attività lavorativa in essenza di garanzie previdenziali e assistenziali. Per le imprese controllate è scattata la maxi sanzione amministrativa. L'attività di servizio testimonia l'impegno della Guardia di Finanza di Salerno nel contrasto allo sfruttamento della manodopera irregolare e del sommerso di lavoro ed è finalizzato alla tutela dell'economia legale e alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e dei lavoratori.